Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale per le vie di Voghera Risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno Al concorso per diventare insegnanti delle scuole elementari e materne Si sono presentati in oltre 6.000 Ma ben 5.000 di loro sono stati bucciati Una vera e propria falcidia come la definisce Repubblica Il provveditore dell'Emilia Romagna, Stefano Versari, lancia l'allarme Chi si è presentato non aveva la valigia degli attrezzi che occorre per entrare in una classe Al concorso per l'infanzia il livello culturale dei candidati era basso Negli altri i commissari hanno rilevato una profonda competenza culturale Ma uno scarso livello di preparazione e di natura didattica Insomma l'incapacità di tradurre quanto studiato sui libri in una lezione Per non parlare dei tanti che sono scivolati sulla grammatica Apostrofi in libertà, sintassi, claudicante Secondo lei per quale motivo nonostante un concorsone del genere Non si riescono a selezionare i docenti necessari alla scuola? Perché c'è ormai l'abitudine a non parlare più l'italiano corretto Anche da parte dei giornalisti Al telegiornale sentiamo degli erroracci Che quando andavo a scuola io me lo segnavano tre volte in rosso Adesso non dice niente più nessuno e i giovani imparano Poi in più c'è l'abitudine con i telefonini a fare i messaggi Se gli chiede di fare una lettera scritta a mano Nessuno la sa più fare I calcoli men che meno e allora c'è ignoranza Secondo me è mancanza di fondi Secondo me Di fondi? Di fondi sì perché non riescono a pagare tutti gli stimenti di questi insegnanti Per mancanza di fondi come tutti gli altri problemi che ci sono in Italia Per qualsiasi proposto, qualsiasi iniziativa sia scuole, infrastrutture, lavoro per i giovani Sempre lo stesso problema è sempre basato sui fondi, sulle cose diciamo europee Che non si mettono mai d'accordo nel da fare di rispettare queste norme e via dicendo Quindi secondo lei i giudizi sono troppo severi e sono così severi affinché si scelgano meno persone Quindi non si debbano pagare? Secondo me sì Perché non vedo perché queste persone diplomate, laureate con le loro qualifiche Non vengono emesse nelle strutture per insegnare, per fare culture e tante altre cose per i giovani Ma io prima di tutto penso che anche se loro erano preparati ad affrontare un esame Si sono messi a soccombere le loro rispettive modalità Perché io vado in un esame a proporlo però penso che ce la faccio e poi purtroppo è decaduto Ecco perché ci sono persone e persone in questo caso che bisogna diciamo che loro purtroppo non hanno valutato l'accaduto E quindi si sono presentate 6.000 persone ha detto e quindi queste qua purtroppo sono decadute perché alla preparazione non erano precisi alla movimentazione dei loro progetti Secondo lei quali sono le caratteristiche che un insegnante al di là della preparazione teorica deve avere per poter insegnare in una scuola? Beh principalmente saper trattare con i bambini che non è una cosa semplice per tutti Ci sono tanti che si fanno prendere dal nervoso e è la cosa più sbagliata Poi sì la preparazione da scuola ok ma nelle scuole materne l'università secondo me non è che serva molto Serve la lezione di vita che ti fa insegnare ai bambini come ci si deve comportare Che adesso poi c'è un'anarchia tra i giovani che fa spavento Data appunto dalla mancanza di istruzione I caratteristiche che lei ha studiato Cioè dipende dal suo curriculum come viene presentato e come viene giudicato Dipende dall'insegnante e le sue califiche E se ci sono le strutture per fare il suo lavoro Ecco perché loro pensano di superare gli esami Però purtroppo l'esame che hanno avuto incombe con altre cose che loro non sapevano Ecco per questo io penso che loro non erano adatti a questi esami Secondo lei un insegnante per poter insegnare a scuola che caratteristiche deve avere? Oltre alla preparazione teorica ovviamente Io so che bisogna essere preparati a determinati esami Per andare avanti e capire l'esame che cosa comporta Perché anch'io ho superato un esame Però se non ero preparato a quell'esame e non sapevo la specifica Purtroppo sono andato male anch'io Quindi arrivano lì senza essere coscienti di quello che li aspetta Ecco sì, effettivamente è così Ecco sì Ecco sì